La chiesa di Santa Maria delle Grazie nel popoloso quartiere di Sant'Angelo a Trania ha un nuovo parroco. Si tratta di Don Vincenzo Giannico che a 32 anni guiderà la parrocchia nella quale ha vissuto sin da piccolo e domenica prossima vedrà il suo ingresso ufficiale con una santa messa celebrata alle 19 dall'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Acenzo. L'arcivescovo mi ha chiesto di assumere questo nuovo servizio, questo incarico in questa comunità tanto bella in questo quartiere così giovane e quindi da parte mia il desiderio di potermi spendere così come ho fatto nei miei precedenti incarichi da vicario parrocchiale, ora di potermi spendere a servizio di questa realtà bella, di questo quartiere così tanto bello e soprattutto ricco di tante giovani forze e di tante famiglie che sentono questa comunità parrocchiale un po' come la loro casa, così come in effetti è. La storica chiesa di Santa Maria delle Grazie consacrata nel 1595 dall'arcivescovo Giulio Caracciolo per devozione a Maria Santissima del Pozzo è davvero un punto di riferimento per l'intero quartiere vista anche la sua posizione strategica, i grandi spazi attorno, la pineta che da 50 anni caratterizza l'ingresso e la presenza di una struttura nata attorno alla chiesa e cioè la casa di riposo Vittorio Emanuele II gestita dall'ASP ma chiusa ormai dal 2015. La stessa struttura, gestita da un ente regionale, ha un commissario nominato quasi un anno fa e cioè Daniele Santoro al lavoro assieme alla parrocchia per provare a rilanciare la struttura che ha bisogno di interventi importanti a livello strutturale. Nel frattempo ASP e parrocchia hanno provveduto a ripulire negli scorsi giorni l'agrumeto adiacente alla struttura e che sarà reso nuovamente fruibile ai cittadini. Il primo intervento che andava fatto era la bonifica dei terreni adiacenti ma solo per dare davvero un valore aggiunto a quella che è il quartiere, dare così anche speranza a chi vive questo quartiere, vedere un po' di luce, vedere riaffluire dei luoghi che comunque sono abbandonati da oltre dieci anni. Questa comunità parrocchiale con questa pineta, con questi spazi verdi aveva bisogno di qualcuno che rivalorizzasse questi spazi che non sono nostri ma che custodiamo e quindi questo dialogo bello ci permette davvero di pensare cose belle come una iniziativa che vivremo domenica 15 al termine della celebrazione della Messa del Fanciullo con i bambini della catechesi, con i bambini della comunità parrocchiale vivremo questo momento di festa proprio nell'agrumeto con una colazione, un momento di dolce offerto ai nostri piccoli. Sullo sfondo però c'è un sogno ben più grande. Oltre a quello di rivedere nuovamente aperta quella struttura al fianco della chiesa, c'è il grande desiderio del quartiere di avere a disposizione un'aula liturgica più grande, un sogno che però dovrà contemplare tanti importanti incastri burocratici ed economici. I desideri sono tanti, poi ci possiamo affidare alla buona volontà degli uomini ma soprattutto alla volontà di Dio.